Dal 5 maggio, presso il Paricentro, tutti i giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 13, sarà a disposizione lo sportello psicologico, a cura delle psicologhe dell'Associazione Giunone di Fano. Lo sportello sarà uno spazio dedicato all'accoglienza, all'ascolto e al supporto di tutte quelle situazioni di difficoltà, di disagio esistenziale, relazionale, a cui ogni individuo, ogni coppia, giovane, ma anche famiglia, tutte le famiglie possono accedere. Si può prenotare un appuntamento attraverso il sito di paricentro.it oppure telefonando al Paricentro o ancora recandosi proprio il front office di Paricentro. Potete lasciare nome e cognome, numero di telefono e una mail e l'appuntamento verrà riconfermato. Allora noi vi aspettiamo da giovedì 5 maggio. Grazie a tutti.